Se sei un atleta, dai il massimo, ma qualcosa non gira, forse possa aiutarti. Raggiungere le migliori prestazioni è una cosa complessa. Fisiologia, psicologia, nutrizione. Molte di queste cose le puoi fare con me, ma una cosa la devi decidere tu. Quanto ci credi? Ti aspetto all'Open Day, Milano, Roma, Cesena, Cagliari. E poi vediamo quanto ci credi davvero.